Allora Lucia, hai fatto la foto, no? Ok. Allora mettiti sulla foto, mettiti sulla foto. Allora, si è scritto gruppo, sopra si è scritto gruppo, mettiti sulla foto. Allora, spingi la foto, metti il dito sulla foto e vedi che sopra ti escono tanti segni, tanti segni. Tu devi spingere il segno, quello che c'è tipo, che ti devo dire, una V, no? Il secondo mi sa, il secondo a destra, che c'è per esempio due, che ti devo dire, una V, simbolo di V, no? Tu spingi V, spingi VTS, i simboli di Whatsapp, che gira e incarna Whatsapp. Whatsapp, spingi Whatsapp, Whatsapp che tu giri, a chi la vuoi mandare? Allora, per esempio alla Lori, no? Ti esce Lori, spingi Lori, spingi la freccia e si manda automaticamente, va bene? Poi mi fai sapere se hai capito. Porco Dio! Si no, mo me la segni proprio, c'è una cosa, non vi preoccupare.